Trasferimento a Hanamura Preparatevi ad affascinare Seleziona il tuo erogio Sia fatta giustizia Ci guadagneremo la gloria combattendo L'attacco inizierà tra 30 secondi Nessuno batte i miei record Sente che ripro 5 4 3 2 2 1 non dà, è iniziale La mia Ultra si sta caricando. Questo ti aiuterà. La mia Ultra si sta caricando. La mia Ultra si sta caricando. Ciao. La mia Ultra si sta caricando. 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 Sì, sì, sì. 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 Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 sì. Sì. Sì, 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 sì.